Dottore Santucci, sicuramente ci sono dei punti in comune per quanto riguarda le attività che svolge la Società delle Scienze e Polenze Veterinare e il suo lavoro a livello istituzionale. Assolutamente sì. Questo evento di oggi ha individuato molte attività strettamente connesse tra quella che è la mission della Società e quello che il Ministero svolge nell'ambito del benessere ma soprattutto della tutela animale. La Società svolge attività per capire in seguito a una morte occidentale o dolosa di un animale se c'è stato appunto da parte dell'uomo un intervento estremo che ha portato a morte l'animale. Questo ci consente di capire come possiamo tutelare gli animali rispetto alla società che non è tutta benigna nei confronti degli animali ma ci possono essere delle situazioni in cui la malvagità dell'uomo si estrinseca appunto andando a incidere su esseri che sono fondamentalmente deboli e indifesi. E quindi anche l'aspetto normativo va in questo senso soprattutto in questo momento che stiamo ricevendo importanti regolamenti comunitari e che abbiamo messo a fuoco la possibilità di fare un'anagrafe degli animali d'affezione a livello nazionale e non più su base regionale. Questo consentirà di seguire le dinamiche e di sviluppare anche dei processi nuovi attraverso l'informatizzazione e la messa a disposizione di informazioni affinché il cittadino possa interagire direttamente con le istituzioni e quindi anche con il mondo scientifico. Rispetto a questo percorso siamo addirittura d'arrivo? No, ancora c'è molto da fare anche perché i tempi, dopo 30 anni che non si è fatto nulla non credo che in pochi mesi si riesce, però ci sono i presupposti per fare le cose seriamente ma soprattutto utilizzando coloro che possono dare un apporto. Questa società scientifica pur essendo molto giovane ma che è ben rappresentata da gente diciamo entusiasta, da gente che viene da una estrazione di tipo universitario e anche di tipo istituzionale, secondo me abbiamo buone possibilità di portare a casa dei risultati importanti per anche per rivedere un po' in chiave moderna la nuova veterinaria e di creare anche opportunità per i nuovi veterinari che come sappiamo in Italia ci sono tante università che sfornano migliaia di giovani veterinari e che potrebbero avere anche degli sbocchi professionali significativi. Grazie a tutti.